...non torna. Qualcosa non va. Arrivano! Devo arretrare. Poco di disapertura! Questa la prendo io. 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 Ok Sì Sì Ehi, fronzo, ti vediamo Avanti, non ci scappa Ho sparato Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Una vittima! Vieni qua! 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 Oh, bene, redoni. Sono tuoi amici, Christopher, perché non sembrano che voi. Sì 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 Ehi, come andiamo? Sì 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 Queste mi serviranno Sì 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 e tanti saluti a terra La via! La via! Posso aggiustarla? 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 Ph promo? Non ho fame, sto morendo di fame Sì, serve per me Sì, serve per me Sì, serve qualcosa Qualche problema? Caporale Ehi là, sergente Ci si vede, caporale Ah, caporale, l'uomo del momento Sergente Ah, spendacione Sì, perfetto Ok, sì, tutto può servire, giusto? Ah, ok Ehi, caporale, allontano dai guai Caporale Ciao, sergente Solo questo? Gli affari vanno a rilento là fuori, eh? Solo questo orecchio? Sì, ok Ok, un orecchio, bene Tutto qui? Solo questo? Gli affari vanno a rilento là fuori, eh? Solo questo orecchio? Sì, ok Ok, un orecchio, bene Tutto qui? Solo questo? Gli affari vanno a rilento là fuori, eh? Solo questo orecchio? Sì, ok Ok, un orecchio, bene Tutto qui? Solo questo? Gli affari vanno a rilento là fuori, eh? Mmm, un bel bottino Va bene Ok, molto bene Oh, niente male Bravo Ci hai dato dentro, eh? Mmm, un bel bottino Va bene Ok Caporale, fa attenzione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti